Il video deve essere abituale Saluta a ti Ti saluta E' il mattino? Calma Non cominciamo a fare strunzate Qua perchè di prima mattina Tra le 8 e 31 32, 33, 34 Abbiamo gli orologi proprio in sincrono perfetti Abbiamo gli orologi posto per fare le operazioni speciali Oh ragazzi è le 8 e 35 Arriviamo in quel posto X Va bene Un minuto uno, un minuto l'altro Siamo registrati Ma spieghiamo dove stiamo andando Spieghi lei E' da un botto che non c'è nei nostri video Siamo andando da Disneyland Sì da Disneyland Siamo piccini e andiamo a Ferrara alla fiera della E' della figa E' della figa Esatto Magari Se c'è qualche mamma Ci spera sempre Mai, non si dò le morte mai Comunque oggi siamo SMT E anche la A E quindi oggi siamo SAMT Qualcosa tipo MAMT Ma solo attacca Qualcosa del genere no? Oggi nella SAMT La SAMT Andrà a conquistare il mondo Conquistato il mondo Cominceremo ripeto dalla fiera di Ferrara Dove ci incontreremo tutti i altri Youtube E poi passare a farmi giugare E poi E poi Ragazzi si appena Si appena appredito il fuoco artificio della stronzata In pallini Ha detto che pagherà 30 euro in pallini Spero che si sente Ti dici ora qualche urli come una puttana? Eh beh ovvio Io devo mi forza urlare Cazzo di un cazzo Comunque Si sta un po' pannando tutto Eh lo so infatti adesso dovremmo chiudere Perché dovevo cominciare a aprire anche il finestrino Ok ok dopo Cari cari ragazzi Andiamo alla fiera Spacchiamo Qualcosa e poi andiamo a casa E poi andiamo a casa perché Con la cosa di mezzo alle gambe Quindi Siiii Da essi tutto No non fa un culo eh Si dai Allora 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 Si vede Vieni 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 qua Se avete naso in diretta Adatto qui stanno guardando tutti i ragazzi Una cosa bellissima Come cazzo metti gli occhiali pure questa merda Eh non posso metterli Ecco dai Ah su un po' ci sono dei cappelli Quello di fare gli occhiali di cappello Ma il mio cellulare A seccolare dentro un cappello Io Il mio cellulare Come fai a sapere che c'è No avanti Perché c'è l'altro No era Il mio cellulare davanti Bella vista Saluta Che abba la gente Cosa camminiamo? A cazzo siamo arrivati A cazzo adesso adesso Mi sono arrivati Ci sono i video che siamo per montare E poi i video C'è il sangue C'è il sangue E sei morto Buono buono Siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati cari ragazzi Eccoci qua Siamo Abbiamo il parcheggio privé Privato Espositori Parcheggio SMT Parcheggio Spositori Oh Ma abbiamo sentito YouTube Ah davvero Grandi Grandi Tanti gratis Nono Se non paghiamo neanche all'ingresso della fiera Comincio a ridere e saltarmi come uno stronzo maledetto Si chiama Samt Samt No no Lui è lo sponsor che ci dà i soldi Buono Mi piace C'è la sua destra Hai visto Hai visto Hai visto Tu sei la sua destra Ragazzi salutate Ciao bello Ma mi prenderà fino a qua? Si 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 saluta Emma Saluta ok Salutate Ottimo No no Mettete quello sul tuo altro qua Qui ci va Due ce ne sono Un paolo Dai Anche se ci sono le zanzale noi facciamo lo stesso Che sniperino Comunque Comunque Stai registrando? Sto già registrando Sto già registrando La scala vuoi nel video però per stare l'anzanzale eh Mamma mia Comincio vai Al volo signor Giornata Top Top Dei top Of the player Madonna Molto sgrava Ho sudato tipo 24 litri di sudore Quindi ho però perso 18.000 kg Che pesavi ben tanto Figa essere ciccione prima Cazzo Non potevo neanche saperlo che pesavi così tanto Mamma mia Comunque Comunque Cari ragazzi Cari ragazzi E spero ragazzi Soprattutto ragazzi Ragazzi C'erano di fare il cosplayer oggi Mamma Ho beccato anche la giornata Che era dedicata all'elettronica Al fumetto E al cartonico Piccole cose lì no? Tanto poi nel vlog metterò anche quello Quindi C'è nella giornata Nel vlog di fiera Mamma mia Quante Cosplayer c'è Mamma mia La più figa Non l'ho filmata Non l'ho filmata Oh sì Non l'hai filmata tu No 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 La bionda Quelle luci Non l'abbiamo filmata Eh la più figa allora Era veramente figa Vabbè comunque Non so perché lo sta andando Lo sai Il navigatore non va più Non sappiamo più come tornare a casa L'iPhone saprà esplodere Ottima cosa Perfetto Vabbè intanto ne approfitto che Emma Si metta i suoi navigatori del cazzo A profitto di ringerciare quella testa di cazzo lì Che vedete dietro Ciao Andrea Montagna Ciao Che ci ha supportato per l'intera giornata Anche per fare dei video E niente Lo ringrazio L'abbiamo sfruttato come strodo Cerca di prendere il meno buche possibile Così almeno il video è abbastanza Eh ma c'è pieno di buche sa cazzo Di strada Al epifero Puttala Cari ragazzi Veramente oggi Giornata top di gamma Grazie anche All'uomo All'uomo Porca troia Mamma mia Così è ancora più forte Vabbè Ok la GoPro ci ha lasciato Quindi siamo passati alla cellulare Cari ragazzi Giornata veramente top di gamma Abbiamo incontrato i nostri amici youtuber Salutiamo veramente enormemente i Green Dragon Grandissimi poi I Sog Veramente Emozionanti Ringraziamo soprattutto Rico Jack Scusate Dovevo farlo Ok Ringraziamo soprattutto Rico che ci ha permesso appunto di avere un stand dedicato al mondo YouTube Sopra noi Dei canali YouTube E niente appunto ringraziamolo Grazie 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 E' stata veramente una bella giornata Ringraziamo anche tutti i ragazzi che sono venuti a vederci A sparcazzate Intanto salutiamo Salve salve La gente ci guarda malissimo Ci guarda malissimo Ci guarda Non dobbiamo fare Esatto Va bene va bene E' giusto così Sai che io non mi non ho anche dato io Inizialmente Che cosa? Che la gente ci guardava malissimo Poi tu hai incominciato a ridere quindi niente Ma qua No perché lui l'ha messo dietro Perché tu non potevi vedere perché io c'ho il specchetto retrovisore Ah ma che sto facendo Ha messo il Ha messo il Ah dove c'è l'artipella Tanta roba tanta roba Ho comprato i giornali e ci sono delle fighe Ah scudo io pensavo sto culo Non ho capito Comunque cari ragazzi veramente incredibile Gli altri youtuber sono veramente persone meravigliose E' una cosa incredibile Ah poi i due gemelli che non mi ricordo il nome del canale I due gemelli Sono i Desert Shadows of Terra Grazie grazie della sua memoria perché mi dimostra Anche loro Simpaticissimi Sì oggi Simpaticissimi Soprattutto Un ringraziamento a Enrico Il ragazzino di dieci anni che sapeva più cose Di noi youtuber messi insieme Di tutti noi youtuber messi insieme Una cosa incredibile quindi veramente Grazie di averci riconosciuto uno E spero di ribeccarti perché sei qualcosa di veramente incredibile Continua così cazzo Continua così Altro Ah grazie al tipo che ci ha dato i muffin Grazie a tutti E i cannoli gratis Ti lo inviamo tantissimo Siamo in tatticati Ah Non si dice Bravo No si dice Si dice Racconta tu anda cosa è successo No No Ma niente in pratica abbiamo Abbiamo detto il tipo del parcheggio che avevamo Stava raccontando lui E ha detto di no Vai 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 Ho detto il tipo del parcheggio che Niente siamo il canale youtube Avevamo lo stand E lui il tipo si è esaltato e ci ha fatto passare senza pagare E allora va bene Allora ci è venuto in mente Ma proviamo a dirlo anche all'entrata Ritentiamo Ritentiamo Al massimo paghiamo Non è che non ci abbiamo il barcino corto Però ha detto se il parcheggio è andata così E proviamolo anche all'entrata Si tenta Tentar non nuoce Ci è andata molto di culo Perché c'era anche Che ne so Un responsabile Il capo Che cazzo ne so E niente si è esaltato anche lui E ha detto Si è ricco E siamo passati Quindi ancora grazie Ferrara Ci ha regalato veramente emozioni Grazie alla fiera di Ferrara Quindi cari ragazzi Credo che come vlog sia tutto Si si Poi vabbè niente Dopo questo vlog molto breve Che poi non sarà breve Vabbè Ci sarà il video dedicato appunto alla fiera Ha la totalissima fiera quella fiera E ragazzi Da S è tutto Da M pure T Aspetta Saluto E da A Ciao A Samet Siamo da Samet oggi ragazzi Da Samet è tutto Da Samet è tutto E ricordate Stay Angry Stay Biru Yeah Ciao Ethe Ah C'è 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 C'è